Salve a tutti, oggi vediamo come affrontare le tre missioni di Postal 4 No Regers, Find Pussy, Bully Dog and Get Milk. Quindi le tre missioni da gatto in Postal 4. Cominciamo subito con Find Pussy, dobbiamo arrivare alle coordinate. E qui niente di difficile, dobbiamo arrivare alla fine del tunnel per poi accoppiarci con la gatta. Ecco qua, il difficile per così dire è il ritorno, quindi dobbiamo affrontare i gatti che tenteranno di ucciderci. Il mio consiglio, il mio unico consiglio è quello di dare la zampata iniziale a distanza. Quindi calcolare il gatto che ci viene incontro e in questo caso, vedete, cercare di dare la zampata altrimenti la subiamo noi per primi. E niente, dobbiamo fare così fino all'entrata. Una volta arrivati all'entrata abbiamo superato la missione, quindi niente di trascendentale, semplicemente un po' d'occhio e facciamo attenzione. Ok, ci siamo quasi. E siamo fuori. Ok, adesso andiamo a fare Get Milk, quindi prendere il latte. Entriamo nel Market e troviamo il latte nell'angolo. Eccolo qui. Ora, una volta preso, la proprietaria cercherà di ucciderci. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scappare, ovviamente. Non affrontiamo la proprietaria. E andiamo a dare una zampata sull'e-switch qui nell'angolo. In questo modo possiamo uscire dall'entrata. Che si trova esattamente qui. E abbiamo completato anche questa missione. Ora, Bully Dog. Dobbiamo colpire il cane da dietro. Sempre e solo da dietro, perché lui con una zampata ci può fare molto male, ci può scaraventare via. Quindi da dietro, zampata, poi scappare. E continuiamo a girare in cerchio. Ora, in questo caso mi ha preso male. Non mi lasciava un secondo, ma sono riuscito a superare la missione semplicemente chiudendolo qui nell'angolo. Ora vi faccio vedere. Qui, in questo punto, sono riuscito a colpire da dietro, vedete? Quindi bisogna batterlo in sostanza, tutto lì. Ed ecco fatto, abbiamo completato le tre missioni del gatto. Un saluto.